L'altro giorno stavo riflettendo su tutto ciò che ho combinato in questi ultimi anni di YouTube e ho realizzato una cosa, penso, molto importante. Ogni volta che invento qualcosa o realizzo un progetto, raggiungo il nirvana. Tante volte però dei progetti nemmeno li pubblico qui su YouTube. Capita che magari sia preso dall'entusiasmo, prenda in mano la telecamera e cominci a documentare ciò che sto facendo, poi ci riesce anche un bel video, ma tante altre volte non c'è semplicemente il tempo per fare ciò e quindi magari dico, ma sì, lo faccio dopo, lo faccio dopo, finisce che passa troppo tempo, perdo l'entusiasmo e non parlo mai di alcuni esperimenti, altre avventure in cui mi sono buttato. E pensavo che è un peccato, dopo tutto, perché questa è la cosa che mi fa stare meglio in assoluto, quindi perché non dovrei condividere ogni singola esperienza che faccio, ogni progetto in cui mi butto, che vada bene o che vada male, comunque è qualcosa che per me ha molto significato. E quindi ho pensato oggi di prendere la cartella video, quella con tutti i progetti finiti e non finiti, cominciare a sfogliare un po' di quelli non finiti, quelli mai realizzati, mai andati in porto. Vuoi perché magari era passato troppo tempo, magari non ero più motivato a completarli, magari non era niente di che in tutto e quindi ho pensato che tutto sommato non valeva la pena di stare su YouTube. E invece oggi ci ho ripensato, perché la verità è che tante ne faccio e un 10%, un 20% alla fine finiscono documentati o filmati in un qualche modo. Direi di cominciare da quella specie di teaser che ho postato sul canale non troppo tempo fa. Quello è un progetto completamente inutile che serve solo a me, non servirà mai a nessuno probabilmente, ed è un telecomando per le mie Yi Lite, che sono questi bulbi smart di Xiaomi, controllabili via Wi-Fi, generalmente tramite l'app, ma hanno anche delle app di programmazione, ad esempio in Python, per cui potete sbizzarrirvi e fare tutto quello che volete. Naturalmente a me pesa troppo usare l'interruttore per accendere la luce perché siamo nel ventunesimo secolo e abbiamo tutto IoT, tutto collegato, quindi ho pensato ok, facciamolo complicato. E complicato è stato perché a tutti gli effetti non c'era nessun bisogno di fare ciò che ho fatto. Inizialmente usavo l'app, ma poi era una rottura di scatole e ogni volta che entravo e uscivo dalla stanza aprire sta app, spegnere e accendere le luci manualmente, no. C'è stato anche un periodo in cui in realtà avevo realizzato un sistema di face detection con la webcam del mio computer, dato che sono sempre seduto alla mia postazione, in cui se non mi individuava spegneva la luce pensando che non fossi nella stanza. Ma poi in realtà c'erano una serie di problemi dovuti al fatto che in scarse condizioni luminose magari non mi vedeva veramente, quando mettevo le luci soffuse mentre vedevo un film magari mi mettevo sul letto e mi spegneva completamente le luci pensando che non ci fosse nessuno. Sarebbe servito un rilavatore di presenza, ma a quel punto magari ti devi muovere. Insomma l'approccio sensoristico l'ho un attimo accantonato, anche perché poi la vita mi ha portato nuovi challenge più interessanti di questo, e mi sono rassegnato, tra virgolette, a farmi il mio telecomando con i Lego. Il progetto è semplicissimo, un Raspberry Pi 0V, sempre collegato alla rete, che controlla la luce in base all'orario. Ad esempio se sono le 9, dalle 9 alle 18 facciamo la luce bianca, dalle 18 in poi magari fai un giallino un po' più caldo, per cui comincio a rallentare anche come metabolismo, e poi, non so, dalle 21 e 30 in poi magari ancora più calda, un po' più soffusa, in modo che sia rilassante e le luci vengono impostate autonomamente. In più ci sono due pulsanti collegati all'header GPIO, per accendere e spegnere la luce come un qualsiasi interruttore, e un altro per cambiare la scena manualmente, perché magari sto facendo le ore lunghe, quindi non voglio la luce soffusa, e allora itero tra le scene con l'altro pulsante. Le scene e la programmazione oraria possono essere definite tramite un semplice file di testo in formato JSON, quindi se magari voglio cambiare qualche impostazione, inserisco l'SD del Raspberry, modifico il file JSON e siamo a posto. Il principale limite di questo approccio però è che il Raspberry deve essere sempre alimentato, quindi non posso davvero portarmelo in giro anche solo per la stanza. E non è proprio l'ideale, perché a quel punto potrei aver avuto il classico pulsante a muro per accendere e spegnere la luce, tanto devo sempre alzarmi e andare a pigiarlo. Quindi ho voluto fare un piccolo upgrade e appiccicargli una batteria per Raspberry, in modo che magari dura qualche oretta senza essere collegato alla presa di corrente. Non è male, sinceramente so cosa starete già scrivendo nei commenti, perché non usi un microcontroller? Effettivamente un single board computer per un task così semplice è veramente sprecato, e usando un microcontroller avrei una batteria che dura settimane. Il problema è che non sono tanto pratico di microcontrollori. Ok programmare in C, ma l'ostacolo più grande è che non capisco niente di elettronica, e anche solo dimensionare adeguatamente una resistenza per alimentare questo microcontrollore con una batteria, avrei paura di friggerlo. Quindi diciamo che è una cosa che magari farò in futuro. Quest'altro mi dispiace proprio non averlo completato, ma magari lo riprenderò appena avrò tempo. Era un video in cui spiegavo le varie tecniche per collegare due client sotto rete NAT, quindi non esposti pubblicamente, direttamente tra loro, senza passare per un server, quindi in classico approccio peer-to-peer. C'erano di mezzo diverse tecniche, tipo il TCP o il punching, e diversi protocolli che permettono di fare questa cosa. Avrei voluto spiegare il funzionamento di queste cose dettagliatamente, ma con la solita chiarezza che uso nei miei corsi sul networking. Il problema è che sono prossimo alla laurea, sto finendo la tesi e non me la sento di impegnarmi in progetti troppo complessi, perché questo richiederebbe davvero tante ore, tra disegni, spiegazioni, storytelling, eccetera, eccetera. Ogni buon video va preparato con una certa calma e ci vuole tanto tempo, non ci sono scorciatoie. Ah, e poi c'era quello sulle strategie di backup. Mi sono documentato per un periodo su quale potesse essere il miglior sistema di backup fai da te, senza, diciamo, pagare software proprietari o servizi enterprise, orientato chiaramente ai comuni mortali, insomma, per fare un backup che funzionasse davvero bene. Questo nasceva dall'idea, che ho anche accennato nel video su Nextcloud, che i dati che mettiamo nel cloud, anche che fosse di Google, OVH, quello che volete, non sono veramente al sicuro, da contratto. Poi, come è prevedibile, in 2000 mi avete detto, eh, ma i datacenter di Google costano miliardi, figurati se perdono i nostri dati. Non sono tutelati. Legalmente Google non vi garantisce niente nello storage gratuito di Google Cloud, quindi è inutile che diciamo, ah, ma Mimò, se prende fuoco un datacenter di Google, i vostri dati sono persi. Punto. Questa è l'assunzione che dobbiamo fare leggendo il contratto. Il resto, tipo, ah, ma i dati sono replicati per natura e qua e là, è solo speculazione. Finché non mi esibisci un documento certificato da un ente di revisore, che attesta che i dati di Google Cloud nel piano gratuito sono backupati regolarmente, ridondati e protetti dal failure hardware, assumere, semplicemente, che lo siano, quando da contratto non c'è scritto, è semplicemente speculazione e fanboismo. Ma naturalmente qualcuno nei commenti mi ha detto, ok, ci hai spiegato come hostare il nostro cloud personale in casa propria, ma non hai detto come mettere al sicuro questi dati. Cioè, io che hosto il mio home cloud in casa mia su un hard disk da 35€ della MediaWorld, non è che esattamente stia proteggendo i dati meglio di come saprebbe fare Google. E questo è vero. Infatti, il video successivo a quello su Nextcloud sarebbe dovuto essere quello sulle strategie di backup. Ovvero, abbiamo visto come creare il proprio cloud in casa nostra, ora vediamo come mettere al sicuro i nostri dati. Perché l'aspetto più critico del backup non è tanto eseguirlo, ma è il fatto di controllare regolarmente che stia venendo eseguito. Tante volte nel mio passato da sistemista mi è capitato che il cliente chiamasse perché aveva avuto un imprevisto, magari aveva preso un ransomware che gli aveva cifrato tutti i dati, e io sarei dovuto andare e ripristinare i backup più recenti. Però, spesso e volentieri, la situazione che mi trovavo davanti era una delle due seguenti. Ah! A. Il sistema di backup era una cartella condivisa in rete, sempre montata, e quindi era stata cifrata anche quella dal ransomware. B. Il sistema di backup aveva smesso di funzionare mesi prima e nessuno si era accorto di niente. Come mai, direste? Tanti software di backup hanno un sistema di notifica, magari tramite email, in caso di fallimento. Ebbene, era anche questo il caso, ma se il sistema di notifiche tramite email lo imposti su, diciamo, il NAS, e questo si frigge da un giorno all'altro, caput, muore, fulminato e non si accende più, e magari questo è nella server room, dove gli impiegati non passano e non possono accoggersi di niente, lui non sarà in grado di mandarti una mail dall'oltretomba dicendo Ehi, sono schiattato! E troppe volte il problema era questo, single point of failure nel sistema di notifiche. Allora, ci sono più modi per gestire questa cosa, e quello che avevo pensato io era il più pessimistico di tutti. Cioè, metti uno o due server esterni dislocati geograficamente che aspettano di ricevere una conferma di avvenuto backup e se non la ricevono, ti avvisano tramite email, tramite whatsapp, tramite quello che vuoi, che c'è stato un problema col backup. Quindi l'allarme parte quando manca la conferma di avvenuto backup perché magari il sistema è completamente offline. non quando il sistema potrebbe avvertirti che qualcosa è andato storto perché altrimenti è valido solo a metà. Il fatto sta che c'è molto lavoro da fare, io ho avuto una serie di imprevisti e il video è fermo da un mese. Operazione Pinephone. Dai, vi lascio con questo che è anche, vi diciamo, il più simpatico, ho anche qualche immagine da farvi vedere. Dovete sapere che le prime edizioni dei Pinephone, la Braveheart Edition, che penso sia la prima in assoluto prodotta, e le due successive, tipo fino alla Community Edition, avevano un problema hardware, proprio di progettazione del PCB, per cui l'output video tramite USB-C non funzionava. Non farò finta di spiegarvi quale sia il problema, perché è abbastanza di tipo elettronico, e quindi vi lascio semplicemente un link in descrizione, se volete leggerlo e siete nerd da quel punto di vista, in cui dettaglia come mai c'è un componente che è stato saldato e sostanzialmente rovina tutto. La buona notizia è che bastava dissaldare due cipettini grandi come due granelli di sabbia, che forse è una notizia un po' meno buona, per far funzionare tutto correttamente, o quasi. E quindi, niente, io dall'alto della mia esperienza nell'ambito del modding hardware, ho pensato di cavarli con le pinze. Il modo corretto di farlo sarebbe stato dissaldare questi due cip, ma la punta del saldatore era grande più di tutti e due cip messi insieme. Sarebbe servito il flussante, sarebbe servita la pistola ad aria calda, due pinzette, un microscopio... Io non ho tutta quella roba, quindi me la sono cavata lo stesso. Guardando queste immagini probabilmente starete pensando «Oh mio Dio, tu sei scemo» e probabilmente l'ho pensato anch'io facendo questa cosa. Però è andata a buon fine, ragazzi. Vi garantisco che la punta delle pinzette era troppo grande, ma in un qualche modo sono riuscito a far presa. La cosa importante qui era non tirare selvaggiamente, perché altrimenti le piste stampate si sarebbero rippate via, sarebbero strappate via, e probabilmente avrei causato altri danni ad altre componentistiche. Invece, diciamo giocandoci un pochettino, alla fine sono riuscito a toglierli in maniera abbastanza pulita. E la cosa incredibile è che da un certo punto di vista questa era un'operazione anche molto più complessa di quella che ho fatto sul Pinebook più recentemente. Questo risale a settembre. Eppure questa sono riuscito a farla bene, e l'operazione sul Pinephone sono riuscito a sbagliarla. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Sono state due chiacchiere abbastanza così alla buona. Per me è stato molto liberatorio finalmente poter condividere qualche scemenza che ho fatto nei mesi passati. Spero vi siate divertiti con me, e magari fatemi sapere se c'è qualcuno di questi video che vorreste davvero venisse portato alla luce. Magari cercherò di dedicarci tutto il tempo possibile da quando mi laureo in avanti. Sta funzionando! Oddio, che figata! Grazie a tutti!